Poi 2016, l'anno scorso, mi hanno rotto le scatole per una settimana per chi c'era, perché venne a fare il comizio a Ponte di Legno indossando una maglietta della Polizia di Stato. Io vi dico che sono orgoglioso di difendere chi indossa una divisa e quando andiamo al governo, ripeto esattamente le parole dell'anno scorso che standalizzarono la sinistra, polizia e carabinieri nel rispetto della legge avranno mano libera per ripulire le nostre città e difendere le nostre donne, i nostri anziani e i nostri bambini. Perché chi ha paura delle divise ha qualcosa da nascondere.